Tu che fai, crispocchia? Ah, fantastico! Così anche tu vuoi le noccioline, eh? Certo che le voglio, servono al parco! Beh, troppo tardi, sorella, pedala! Amico e io siamo arrivati per primi e non dividiamo! Oh, sì, invece! Siamo in autunno e il parco non è mai stato così a corto di provviste! Quel carretto di noccioline può sfamare tutti! Ehi, lavoriamo insieme! Possiamo accortarci! Ehm, mi passeresti quella cosetta di metallo? Oh, io non capisco! Hai tutta l'energia e la capacità per aiutare il parco e non lo fai mai! Questa è un'occasione per dimostrare che il boss si sbaglia sul tuo conto! Non mi interessa quello che pensa il boss! Allora fallo per il parco! Smettila di pensare sempre e solo a te stesso! Senti, io lavoro in proprio e questo vuol dire pensare solo a se stessi! Ti suggerisco di fare lo stesso se vuoi sopravvivere! Chiaro? Mi dispiace per te, Spocchia! Ah ah! L'ho trovato! Su un albero, niente meno! Molto scaltro, Spocchia! Ti arresto prima che tu interferisca con la rapina al carretto di noccioline! Tutto ok, Vanesio? Ci penso io! No, Vanesio, è inesatto! Aiutala, è meglio! Ehi, tu adesso... Ehi, Mr. Rison! Appendi i guantoni al chiodo! Guarda che ti strappo la coda! Ehi! Quando esci con me? Sentite, mi piacerebbe restare a chiacchierare, ma ho un appuntamento con la Vittoria! Vittoria? La conosco? Buona suerte! Amigos! È stato un vero piacere! È stato un vero dolore! No! Questa finisce male!